a trieste nella prestigiosa sede della galleria d'arte moderna del museo revoltella si può visitare fino al 13 ottobre la mostra donazione luciani pittura triestina tra 800 e 900 la donazione è frutto della generosità dei triestini anna maria e luciano luciani che hanno acquistato le opere in un'asta si tratta di una donazione importante per numero di pezzi 116 e varietà di stili composta da opere per lo più realizzate da autori nati o attivi a trieste promossa e organizzata dai comuni di trieste assessorato alle politiche della cultura e del turismo ed è ad ingresso gratuito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti